L'Inno d'Italia ha aperto questa mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo asilo nido comunale l'Albero dei Sogni a Centobuchi. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, famiglie con bambini e tanti cittadini. Dopo il taglio del nastro e la benedizione impartita da Don Armando Moriconi, parroco dell'unità pastorale di Centobuchi, è intervenuto il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, per esprimere la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Questa è una struttura importante per tutta la comunità di Monteprandone Centobuchi, ma è una struttura veramente che è il fiore all'occhiello per tutta la provincia di Ascoma, per tutta la regione, darà anche delle risposte concrete, questa è una struttura che contiene 100 posti, ma non ci fermiamo qui perché abbiamo avuto pochi mesi fa un ulteriore finanziamento per altri 900 mila euro per allargare appunto il tutto con altri 37 posti e questa struttura verrà realizzata nel borgo storico. Quindi ecco, cerchiamo di coinvolgere tutto il territorio di Monteprandone e Centobuchi. Noi siamo orgogliosi e questa amministrazione ha sempre più voglia di dare risposte serie e concrete a tutto il territorio. E' quindi intervenuto il dottor Alessandro Risca, vice direttore centrale patrimonio dell'INAIL, per raccontare le tappe che hanno portato alla realizzazione di questa struttura. L'asilo è nato da un progetto selezionato nel 2014 grazie a una norma che ha permesso all'INAIL di investire in opere di alta utilità sociale. C'è una grande soddisfazione nel vedere questa struttura realizzata, completata, perché questa struttura oggi c'è grazie ai fondi dell'INAIL e all'attività dei professionisti e dei tecnici dell'INAIL che insieme all'impresa l'hanno realizzata. Per cui per l'istituto è una grande soddisfazione. Durante la cerimonia numerosi bambini hanno potuto esplorare le nuove aule e gli spazi di gioco, pronti per iniziare il nuovo anno educativo a partire da lunedì 2 settembre, un'opera questa che rappresenta un modello di eccellenza e innovazione nel panorama dell'edilizia scolastica regionale.